Allora, guarda, del casting non c'è tanto tanto da raccontare, aspetta che mi siedo. Allora, io sono stata contattata dalla produzione e mi hanno detto di portare determinate, vabbè, tre canzoni in italiano, tre in inglese e poi se avessi avuto degli inediti. Quindi io ero a posto perché avevo anche gli inediti, quindi sono andata a Roma e vi dico la verità, coloro che lavorano lì sono brave persone, assolutamente anche molto disponibili. Però già quando ho iniziato proprio ad entrare per fare il casting dentro proprio gli studi Titanius e Eleus, mi sembra che siano quelli, ci sono state delle cose che non mi sono piaciute, ok? Io non posso dire, cioè se non mi fate le domande specifiche non so neanche che cosa dire, però vi parlo proprio del provino in sé che è stato pessimo, cioè io non ho mai fatto un provino così brutto e non me lo sarei mai aspettato in realtà. Perché comunque è molto carino come approccio, perché tu entri proprio nel posto in cui vedi proprio le registrazioni di amici, ok? Quindi c'era proprio la scuola, io ho visto dove loro tutto, ho le foto, casomai se volete ve le posso anche far vedere in velocità. E il provino in sé è stato orrendo, perché c'è stata una strafottenza da parte degli uditori o auditori, non so come si dice, e c'era tra l'altro anche, c'erano due sale diciamo. Una sale in cui c'era un ex concorrente, non posso fare nomi, uomo, e io invece sono stata ascoltata da un ex concorrente donna. Io so che non posso fare nomi di questa cosa, perché comunque non si può dire, poi magari si sa chi sono, lo scriverete voi nei commenti, io non lo dico. Quindi due ex concorrenti, che mi sembra abbiano addirittura vinto entrambi, però non ricordo. Vi dico solo che mentre io cantavo queste persone erano obiettamente con il loro telefono in mano e non mi hanno degnata neanche, non mi hanno ascoltata proprio, ok? E non penso di fare così schifo tanto da non dover essere neanche ascoltata. Tra l'altro io ho cantato due brani e poi ero super felice perché toccava all'inedito. Mi hanno detto, no no no, tranquilla, non fa niente per l'inedito. Quindi io realmente non sono stata ascoltata, perciò vi dico. Ci vogliono far credere che sia, che tu vai là, ti chiamano, eccetera. Non è così, raga. Ripeto, se mi fate domande più specifiche posso essere anche più esaustiva, però insomma, la situazione è questa. Per me no, assolutamente.